Ok, dovrebbe andare l'audio, quindi ho queste cuffie perché vi spiego, il microfono non funziona bene, quindi del telefono purtroppo lo devo cambiare, però comunque continuo a fare video perché è la mia passione, quindi ho bisogno di fare video. Napoli-Monza 2-0, andiamo ad aprire diretta per l'analisi, gol di Politano al 22esimo, gol di Quara al 33esimo con assist di McTominay e gol a Politano che fa un gran gol. Poi giallo di Quara Scala da ufficio in chiesa nel primo tempo al 26esimo, è una partita che noi abbiamo giocato molto bene nel primo tempo, nel secondo tempo abbiamo giocato un pochettino, essendo un po' più conservativi diciamo, le statistiche abbiamo fatto 10 tiri, 2 in porta, loro 5 tiri, 1 in porta. Mi è piaciuto di loro, mi è piaciuto Daniel Maldini che mi sembra un bel giocatorino, sinceramente. La squadra ha giocato bene, soprattutto nel primo tempo, come vi ho detto, centrocampo molto bene, l'attacco ha funzionato, comunque i ragazzi mi hanno convinto, la difesa centrale comunque è abbastanza solida, anche Caprile comunque non ha giocato male. Politano secondo me è oggi ragazzi uno dei migliori in campo, cioè ha fatto un grandissimo gol, forse qualcosa l'ha sbagliata ma un po' hanno sbagliato tutti, non è stata una partita perfetta questa qui, è stata una partita più che altro di cinismo, di aver giocato bene il primo tempo, poi il secondo tempo siamo andati un pochettino a subire il loro palleggio, ma tra virgolette, nel senso che comunque alla fine loro hanno il 52% di possesso palla, ma era un possesso palla sterile, poi qualche punizione, comunque non hanno giocato granché. Lukaku continua secondo me ad essere un pochettino in ritardo nella condizione, cioè sì, è giocato sicuramente meglio rispetto a, per esempio, contro la Juve, e contro comunque in altre partite, comunque ha giocato abbastanza bene, ha fatto il suo dovere, però ragazzi comunque deve ancora crescere, mi è piaciuto lo Botka oggi, lo Botka ha giocato bene, e McTominay, i ragazzi comunque ha fatto assist, si fa vedere in area di rigore, è un bel colpo di testa, comunque è un giocatore di qualità, sicuramente oggi non ha fatto la sua miglior partita, Anghissa, vabbè, il solito Anghissa molto bene, avevamo sicuramente un terzino a Oliveira che non si è visto molto, infatti secondo me era uno dei peggiori in campo, perché era un fantasma, Di Lorenzo che spingeva un pochettino di più, non è questo granché oggi Di Lorenzo, però spingeva un pochettino di più, e diciamo che la squadra giocava bene, palleggiava bene, diciamo siamo partiti un pochettino male, perché comunque il Monza all'inizio ha cominciato a palleggiare un po', avere un po' stesso palla, però comunque non era chissà che è un po' stesso palla, cioè alla fine era tutto normale, comunque in normale amministrazione, abbiamo fatto giocare un po', poi siamo saliti noi, e in 10-11 minuti abbiamo fatto 2-0, abbiamo risolto nel primo tempo, poi ci siamo riposati nel secondo un po', alla fine comunque con Raspadori e Neres abbiamo provato a fare anche il 3-0 sfiorato appunto da Raspadori, che mi è piaciuto molto come entrato. Quindi andiamo alle pagelle, Caprile, ovviamente una partita normalissima, per me è un 6, gli do anche un 6 e più per incoraggiamento, perché comunque è il clean sheet, bravo nelle uscite, non ha fatto errori, quindi un 6 e più, però non è che gli posso dare, ovviamente non ha fatto interventi, non ha fatto una partita incredibile, Oliveira, voglio essere buono, gli do 6, perché comunque alla fine non ha fatto danni, anzi 6 meno, perché comunque è uno dei peggiori, comunque Buongiorno e Ramani 7 tutti e due, ottima difesa, Di Lorenzo 6 e mezzo, Mettomini 7 meno, anzi 7 perché ha fatto assist, Lobotka e Anghissa 7, voglio premiarli, 7, comunque hanno fatto una buona partita, Quaraskelia migliore in campo, 7 e mezzo, un giallo che non capisco, comunque si muove tanto, si sbatte tanto, sempre marcato, sempre buttato a terra, ma comunque la mette dentro, poi abbiamo Lukaku, io Lukaku non mi piace, non mi sta piacendo, però comunque gli darei un 5 e mezzo, non vuoi essere cattivo, però ancora deve entrare nelle condizioni, diciamo difende palla, qualche volta ha avuto anche qualche, ha riuscito a guadagnare anche qualche fallo, quindi comunque in realtà non malissimo, però secondo me ancora ci vuole un po' per avere una sufficienza, perché non ha fatto ancora un tiro, non ha fatto comunque granché, Politano anche lui uno dei migliori in campo, forse un pochettino meno a Quara, però gli metto 7 e più. Andiamo a panchinare, io quando ho visto il cambio Mazzocchi-Quaraskelia ho storto un po' il naso, perché addirittura avevo sentito il telechronista che diceva 5-4-1, e io quando sento questo storco un po' il naso, perché non mi piace questo modo di giocare, anche perché sulla difensiva, ok, che la squadra è stanca, però fai i cambi e cerchi di giocare. Mazzocchi al posto di Quara, io mi sono un po' detto, cazzo Mazzocchi, però ha giocato di cuore, ha giocato con tanta corsa, con tanto impegno, quindi 6-6 a Mazzocchi, io la voglio dare. Ha messo anche una bella palla e mezza a Raspadori, ma comunque non ha fatto granché. David Neres è entrato all'ottanasettesimo e stava pure per segnare, sinceramente, quindi vabbè, chi ci vuole dire a questo ragazzo è un bel giocatore, quindi gli vai a mettere almeno 6 e mezzo, e comunque, alla fine, Raspadori anche mi è piaciuto molto, quindi io ci metto a salire e mezzo, ha sfiorato anche lui il gol, Spinazzola e Girmol, ragazzi, senza voto, perché alla fine è entrato qua negli ultimissimi minuti e stiamo andando molto bene, stiamo andando molto bene, siamo capolista, siamo capolista, appunto, ottime cose stiamo facendo, perché comunque nelle ultime 5 partite praticamente ne abbiamo vinte tutte e pareggiata solo uno con la Juve, la Juve è seconda, che comunque è una signora squadra anche la Juve, e ha fatto 9 gol, subito 0 gol, quindi comunque un'ottima difesa. Poi c'è il Milan, ragazzi, il Milan terzo, l'Inter quarto, Milan che sta riprendendo condizione, comunque nonostante si parlasse di Fonseca, Fonseca non è buono, Fonseca qua, Fonseca la fine del Milan, ragazzi, sta prendendo condizione, sta migliorando, e poi c'è il Torino e l'Empoli che stanno lavorando bene, stanno lavorando bene come la Lazio che oggi ha battuto il Torino, quindi questa è la nostra situazione, per ora siamo primi, il duro lavoro sta pagando, il mercato sta funzionando, e noi dobbiamo puntare in alto, dobbiamo puntare in alto e cercare comunque di tenere alto anche il morale, continuare così. Bella.